L'ESAFR è conosciuta in Italia e nel mondo per offrire soluzioni a 360 gradi sulla fermentazione e ovviamente questo include anche il mondo degli eritomatri. Il progetto in l'ESAFR Italia è quello di rilanciare la gamma Livendo. Questo ci permette di soddisfare le richieste del mercato sia dalla parte del panificatore sia dalla parte del cliente finale, offrendo soluzioni a base di lievito madre per la preparazione di prodotti ad altissimo valore aggiunto. Ovviamente non dimentichiamo che i prodotti a base di lievito madre sono estremamente richiesti e apprezzati anche dalla clientela più giovane. Diciamo che la missione di l'ESAFR Italia è quella di supportare sempre il panificatore. Questo arduo compito è supportato da oltre 30 laboratori di ricerca e sviluppo e 50 backing center in tutto il mondo che ci permettono ogni giorno di portare sul mercato soluzioni innovative, tecnologicamente avanzate e facili in utilizzo, ma lasciando al panificatore l'ingrediente segreto, la creatività. Tantissime novità in arrivo, SIGET 2023 ormai è alle porte e saremo lieti di presentarvi tre nuovi prodotti che si aggiungeranno alla famiglia Livendo.